Approfitterei, e non me ne vogliono i tecnici, per invitare Andrea Pomella, il nostro primo ospite di oggi, a raggiungerci perché possiamo già raccontare una storia che sono già tante storie. Per cui intanto direi che possiamo aprire il nostro salotto, insomma la bellezza di almeno due pagine al giorno e di RBA in questi giorni soprattutto è quella di poter raccontarsi così in diretta. Per cui Andrea non ti preoccupare, portati via tutto, ben arrivato, anche bagnato, insomma siamo sotto la pioggia anche a Torino. Andrea buongiorno, intanto è un piacere, sono veramente molto felice di rivederti e di tornare a dialogare con te. Per chi ci segue su RBA abbiamo aperto e inaugurato almeno due pagine al giorno questa nuova trasmissione a ottobre scorso con, e la cosa bella di essere anche in tv, che si possono esibire le copertine, il dio disarmato di Andrea Pomella. Ne parleremo anche se stamattina abbiamo poco tempo, ma cercheremo di condensare perché voglio chiederti veramente tante cose. Intanto Andrea, allora, ben arrivato al Salone del Libro, grazie per essere qui a RBA dalmeno due pagine al giorno, intanto come stai? Ben arrivato. Bagnato, bagnato perché mezz'ora di fila con la pioggia, sotto la pioggia va bene. Tutto bene, grazie. Allora Andrea, insomma tu sei qui oggi e in realtà condensi tra oggi e domani una serie di incontri, direi, importanti, a partire da quello di oggi che mi ha fatto anche sorridere perché questo primo incontro di stamattina alle 11 rientra dentro questa iniziativa che si chiama Psychiatric Help, in cui tu scrivevi in maniera molto efficace, secondo me, sui social qualche giorno fa che sarà possibile scambiare due chiacchiere sui prossimi tuoi corsi di scrittura, su ciò che volete, anche sulla volata Champions. Vedo che sei molto caldo anche sul tema calcistico e tanto l'iniziativa si intitola Psychiatric Help. Insomma, partiamo da qui perché poi andiamo subito dentro un libro che per me è stata davvero una sorpresa. Io ieri ho incontrato gli amici di Giulio Perone, editore, mi hanno dato una copia, ho provato a leggerlo stanotte, non sono riuscito a finirlo, diciamo, per cui sono anche un po' impreparato ma anche emozionato di parlare con te di questo nuovo tuo libro, ma intanto Psychiatric Help, partiamo da qui Andrea. Psychiatric Help è un'iniziativa della Scuola del Libro, in cui io insegno scrittura autobiografica e facciamo questi incontri, alle 11 ci sarò io, poi nel corso delle giornate del salone ci saranno altri colleghi scrittori. Siamo a disposizione di chi vuole avere sia informazioni sui corsi ma anche volendo parlare di tutto, veramente di tutto, perché poi il bello della scrittura è questo, è che nella scrittura convogliamo tutto quello che sono esperienze umane, dalle più felici alle più tragiche alle più comiche, per cui ecco io sto lì a disposizione. E la vicenda umana poi confluisce dentro la scrittura di sé, la scrittura autobiografica, e questo poi se vogliamo anche il cuore del lavoro che tu fai alla Scuola del Libro con i tuoi corsi, non Andrea? Sì, certo, esatto, io lì scrivo, insegno scrittura autobiografica, faccio dei corsi di scrittura autobiografica, siamo arrivati adesso alla decima edizione, l'undicesima che partirà tra poco a giugno, poi ce ne sarà un'altra che parte a settembre, sì, fondamentalmente poi la scrittura autobiografica non si insegna come non si insegna la scrittura, quello che noi, io, cerco di trasmettere ai corsisti è uno sguardo, è come guardare al mondo con l'occhio di uno scrittore. Andrea, allora insomma, veniamo al primo libro di cui voglio parlare, che è il tuo nuovo libro in realtà, allora, esibisco la copertina subito a Edimburgo con Irvin Welch, Il sogno di un dio folle, che esce in realtà, no no, non più oggi, ma il 26 maggio, così come mi hanno raccontato ieri a Giulio Perrone, editore, e tu ci porti praticamente, insomma, ripeto, per quello che ho letto, e io mi sento sempre un po' in colpa quando il libro non l'ho finito, perché per me è un imperativo morale dialogare con gli autori, con gli scrittori, dopo averlo letto il libro, però, insomma, sono riuscito a strappare una copia e a leggere una buona parte, però, insomma, allora, partiamo da qui. Tu ci porti a Edimburgo, in un Edimburgo efficacissima la quarta, l'universo di Welch, tuttavia, è profondamente egualitario, nel senso che i suoi protagonisti sono tutti ugualmente nella merda, e prendi le mosse, ovviamente, da quel capolavoro che è Trainspotting, che entra anche dentro la tua biografia, anche questo nuovo capitolo della tua scrittura è un modo per continuare, anche in questo caso, a parlare di sé. Sì, intanto è la prima volta che lo vedo, perché non lo avevo ancora... Puoi anche toccarlo, Andrea. Lo tocco volentieri, ecco, quindi è la prima volta che lo vedo stampato, perché probabilmente saranno anche arrivate le copie a casa, ma io non ci sono, per cui, ecco, questa è la prima sorpresa che tu mi fai. Prova un po' di imbarazzo, Andrea. L'hai ricevuto prima tu di me. Prova un po' di imbarazzo per questa priorità. Sì, no, ma questo fa parte di una collana che produce da tanto tempo Giulio Perrone, che è Passaggi di Dogana, in cui una città si incontra con uno scrittore o con anche gruppi musicali, attori famosi, insomma, è un modo per entrare dentro le città un po' particolare. Io ho scelto di raccontare Edimburgo attraverso Irvin Welsh, che è un mio amore letterario di gioventù, e mi ricollego un po' a cose che avevo già fatto in scrittura, per esempio con Anni Luce, in cui raccontavo gli anni 90. Io sono molto legato agli anni 90 per ragioni anagrafiche e sentimentali, diciamo così. E io l'unico viaggio che ho fatto a Edimburgo, l'ho fatto nel 1995, prendo le mosse da lì per entrare con ricordo e con la memoria dentro quell'Eidimburgo lì, che erano anche gli anni in cui Irvin Welsh veniva alla ribalta con Trainspotting, e quindi faccio un racconto di questa città vista da un punto di vista un po' particolare, cioè antituristico, visto che i personaggi dei romanzi di Irvin Welsh, diciamo così, non è che frequentino proprio l'Eidimburgo turistica. Esattamente. Anche altro, quartieri periferici, soprattutto l'Eath, che è il quartiere per eccellenza dei protagonisti di Irvin Welsh, soprattutto di Trainspotting, e cerco di raccontare un po' la storia di questi quartieri, un po' la presenza anche attuale, la contemporaneità, facendo, diciamo così, vari excursus in vari ambiti anche. Infatti tu scrivi nel tuo libro che la tua guida di Edimburgo non è una guida classica, perché tu dici non ami molto le guide classiche, in realtà, perché fino a quel punto le tue guide, se vogliamo, anche letterarie rispetto a certi mondi, afferiscono, diciamo, quasi sostanzialmente, per esempio a Chiruac, sulla strada di cui tu parli anche, e per raccontare Edimburgo la tua guida non è tanto una guida classica quanto Trainspotting. Dico bene, ho capito bene. Sì, la mia guida è Trainspotting, nel senso che sono i personaggi Trainspotting, ma faccio qualcosa di più. Mi ricollego idealmente a quello che è il capolavoro della letteratura di tutti i tempi italiana, che è la Divina Commedia, e in questo viaggio dentro a Edimburgo io mi doto, diciamo così, di un Virgilio, cioè di un poeta di un'epoca precedente, in questo caso è Stevenson, attraverso il quale cerco di entrare con quello sguardo lì ottocentesco dentro a quella che è l'Edimburgo, poi degli anni 80 e 90 fondamentalmente, creando una sorta di cortocircuito, ma anche di strane assonanze tra quelle che erano appunto le descrizioni dell'Edimburgo dell'Ottocento che fa Stevenson, rispetto appunto all'Edimburgo scassata, violenta, depravata di Irving Welch. E tu dici anche nel tuo libro che in realtà questi sono, come posso dire, i tuoi eroi storti, no? Renton, Bagby, no? Spud, no? Sono i tuoi eroi storti che ti porti con te, perché racconti anche nelle prime pagine di, diciamo, ore passate sulle panchine, insomma, rimosso dalla polizia, perché, insomma, non si può stare qui all'aperto. Si parla anche del Festival dell'Elimburgo, degli artisti di strada, in una città deformata dalla disfatta, dalla droga e dalla gioventù che l'ha attraversata. C'è una liaison fortissima anche, io spero di non essere particolarmente blasfemo, con Anni Luce, perché tu parli, insomma, di questa disfatta che è stata avere vent'anni all'inizio degli anni 90, che tu racconti in maniera potentissima, secondo me, dentro Anni Luce. C'è una sorta di, diciamo, come dire, i due estremi anche della tua produzione letteraria, partendo da Anni Luce, senza considerare gli altri precedenti, diciamo, si toccano questi due vertici, diciamo. Si toccano anche perché il viaggio che raccontavo in Anni Luce è esattamente questo viaggio qui, alla volta in cui sono stato lì a Edimburgo, e l'Edimburgo che ho visto io quell'anno appunto mi accolse con il festival, che va al famoso festival di Edimburgo, era il primo giorno, arrivai lì di sera, non c'era disponibilità di ostelli, non c'era disponibilità di nulla, e io prima vagai, insomma, per la città in festa, e poi alla fine mi sono ritrovato a dormire in stazione, come facevo appunto in quegli anni e come era uso di quegli anni. E secondo me era appunto l'entrata, l'ingresso perfetto per il mondo di Renton, Bagby, Spad e Sick Boy, gli eroi appunto di Trainspotting, gli anti-eroi, chiamiamoli così. Quindi sì, senz'altro si toccano e senz'altro è stato divertente anche scriverlo perché sono tornato a quelle sonorità, vorrei dire, se fossi un musicista. Sonorità che si percepiscono molto. Andrea, allora, farei un passo, diciamo, ulteriore, perché abbiamo detto poco fa, noi abbiamo parlato qui ad almeno due pagine al giorno del Dio disarmato, da pochi giorni, insomma, il 9 maggio, insomma, se non sbaglio, abbiamo ancora una volta ricordato, come dire, Via Fani, e questo è un libro che continua ancora a raccontare, a raccontarsi, tu continui a raccontarlo ai lettori, incontri ancora molte persone, diciamo, in cui racconti questa storia, che è una storia in cui il privato e la storia con la S minuscola incontra la storia con la S maiuscola, racconti un Aldo Moro inedito, emozionante dal mio punto di vista, e si parla moltissimo anche della sua versione cinematografica, che vince anche dei premi, come Esterno Notte, è un tema ancora attualissimo, so che può sembrare ancora una volta una domanda banale, ma anche nelle tue presentazioni molti ti chiedono, ma abbiamo fatto già finalmente i conti con quegli anni, insomma, cosa significa ancora adesso continuare a raccontare, perché tu continui a girare, a raccontare il Dio disarmato, lo farai anche qui al Salone, credo, se non sbaglio. Sì, io farò un incontro qui al Salone sugli anni 70, insieme ad altri relatori, ma io sto incontrando le scuole negli ultimi tempi, le università, e sto scoprendo il buco storico che c'è rispetto agli anni 70, e secondo me è un problema grosso, perché gli anni 70 li ripercuotono concretamente sul nostro vissuto presente, sulla politica del presente, lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, con alcune nomine del governo un po' strane, non sapere, non conoscere quello che è accaduto negli anni 70, porta poi a questo, ed è fondamentale. Io faccio un grosso lavoro, portando in giro questo libro, sulla memoria, sulla questione della memoria. Quando faccio le dediche ai lettori che me le chiedono, scrivo la memoria più forte, che secondo me è una frase importante. Il 16 marzo del 2023, che è stata la ricorrenza del 45ennale della strage di Viafani, la memoria è forte, ma il governo, se dimenticate, non è andato. Hanno recuperato un'ora dopo di corsa, mandando una corona di fiori. Questo per dire quanto invece è importante tenere testa l'attenzione su questi argomenti e su questo tema in particolare, che secondo me Viafani rappresenta un crocevia fondamentale della storia repubblicana italiana. Tra l'altro, vorrei dire, non voglio aprire una parentesi che sarebbe enorme, le amnesie strane di questo governo, anche rispetto a stragi, come Piazza Fontana, ritirare anche la posizione all'interno del processo come parte civile, ci deve far effettivamente riflettere. Dal tuo punto di vista, tu che hai messo le mani dentro la materia caldissima e rovente degli anni 70, degli anni di piombo, diciamo, siamo in una fase in cui dobbiamo effettivamente, e lo chiedo a te come intellettuale anche, che riflette su questi argomenti in maniera molto molto approfondita, dobbiamo davvero preoccuparci, prendere posizione, ragionare, raccontare, stare ancora sulla memoria e tenerla viva, cioè che cosa possiamo fare? Noi che ci occupiamo anche di racconto, se vogliamo, della storia, delle storie, anche di quegli anni complicati. Io sono molto grado, per esempio, a quelle associazioni che lavorano negli ambiti scolastici e che portano gli iscrittori, per esempio come me, che si occupano di questi temi a parlare con i ragazzi e i ragazzi non ne sanno nulla, a parte pochissime eccezioni. La scuola italiana ha un problema enorme, ha un problema enorme soprattutto con il racconto della storia che ai miei tempi, quando andavo a scuola di oggi, si diceva se ci si arriva si studia fino alla Seconda Guerra Mondiale. Se ci si arriva. Oggi ho fatto la stessa domanda agli insegnanti che insegnano oggi e dicono se ci si arriva si arriva alla Seconda Guerra Mondiale. Nel frattempo, sono passati 30 anni da quando andavo a scuola io e la storia è andata avanti e sono successi tante altre cose. Invece c'è questa idea della scuola e della storia in particolare fissa, rigida. E questo è un problema che secondo me è grave ed è la prima cosa su cui bisogna lavorare e la prima cosa su cui bisogna anche sensibilizzare. È un problema di programmi anche ministeriali. Lo vedo anche con lo studio della storia. Io ho un figlio di 10 anni, anche lì. La storia viene raccontata ancora in maniera molto rigida. molto rigida. Ma non se ne esce, Andrea. Lo so che è una domanda, come dire, una riflessione banalissima però non se ne esce. Siamo ancora lì, insomma. Io inserirei banalmente un insegnamento di attualità chiamiamola come vogliamo. Storia contemporanea è già un termine un po' più difficile da categorizzare ma l'attualità non entra nella scuola. La scuola italiana è una scuola rivolta al passato ma solo a un certo tipo di passato e non anche al passato recente che invece influisce ancora sul presente. Già, ancora. Allora, Andrea, siamo, insomma, ti ruberò ancora qualche minuto perché tra l'altro ricordo che il primo incontro lo Psychiatric Help, per chi fosse in giro e ci sta seguendo anche in giro è alle 11 allo stand della Scuola del Libro Padiglione 2 M40 stand M40 poi ricordo ancora che oggi pomeriggio è qui voglio anche portarti perché alle 16 in Sala Viola, Galleria Visitatori racconti ad Adad Adamo e il suo come Daria con Daria Bignardi Allora, io qua, intanto ecco questa è la copertina del libro di Adad Adamo Qui la materia è davvero molto molto delicata perché c'è una questione in queste ultime settimane Adad Adamo è candidata allo strega è venuta a mancare subito dopo la candidatura diciamo alla dozzina ma c'è una sorta di movimento intellettuale, culturale non so come definirlo che sta un po' spingendo per attribuire il premio strega ad Adad Adamo intorno ad un libro, ad una storia potentissima qua voglio citare Anna Lena Benini che sul foglio di qualche giorno fa scriveva di questo libro Come Daria è un libro molto forte di una forza delicata ma per nulla trattenuta è un libro che va dritto nella strada della malattia, della rabbia e dell'amore non risparmia la verità di un grande dolore ma nemmeno arretra davanti agli attimi di felicità e davanti al senso pieno di un'esistenza un corpo a corpo fra madre e figlia legate insieme prima dallo sgomento e dalla difficoltà poi dall'amore che muove le montagne anche a piccolissimi passi nella continua ricerca di armonia che ha segnato la vita e la scrittura di Adad Adamo intanto come ti trovi nei panni di un autore, di uno scrittore che deve raccontare una scrittrice che non c'è più e che ha scritto un libro potentissimo e ti chiedo anche di darci una tua riflessione anche un pensiero intorno a quello che scrive anche la Benini di questo libro Beh intanto c'è un senso di responsabilità importante io ho ringraziato l'editore Elliot quando mi ha proposto di fare questo incontro qui perché ovviamente noi facciamo le veci così come stanno facendo le veci di Adad Adamo tutti coloro che presentano il libro in giro per l'Italia in questi giorni, in queste settimane è un libro importante è un libro autobiografico in senso vero la scrittura autobiografica subisce un'incomprensione di fondo in molti i detrattori della scrittura autobiografica definiscono letteratura umbilicale quella che parla dei fatti nostri come dicono loro in realtà è una scrittura che quando è fatta bene come nel caso di Comedaria è una scrittura che si passa dall'io e diventa un noi ed è quello che riesce a fare in maniera straordinaria e fortissima Adad Adamo in questo libro è un libro forte doloroso racconta la malattia della figlia nata con una gravissima disabilità e la malattia di cui si ammala lei stessa nel momento creando un cortocircuito spaventoso a un certo punto ma lo fa con una chiarezza una durezza e un amore e con questo mi riallaccio alle parole di Anna Lena Benini fortissime e importantissime commuove, certo che commuove ed è un bene che commuova perché i libri devono anche commuovere fa arrabbiare, fa molto arrabbiare suscita una vastità di sentimenti che sono sentimenti che possiamo provare noi tutti e in questo senso è un libro importante e assolutamente riuscito e non rientra in quel canone di letteratura umbilicale così come lo usano appunto i detrattori della scrittura autobiografica Andrea, voglio tenerti sul tema prima di salutarti perché se vogliamo non mi hai risposto diciamo alla prima parte è chiaro che i premi letterari sono premi letterari poi ovviamente il premio strega è il premio letterario più importante dove dietro le quinte ci sono anche diciamo lotte intestine tra editori e via dicendo ma questa idea come dire di attribuire il premio ad un autore che non c'è più che però è candidato come lo valuti? è retorica? è una posizione di comodo del premio? quello che pensi? intanto penso che i premi sono belli è divertente parteciparli è bellissimo vincerli però dobbiamo anche cercare di ricondurli un po' nel loro alveo cioè nel senso un libro è meritevole di esistere di essere per quello che varia al di là dei premi letterari ci sarà una votazione naturalmente ci sono il meccanismo del premio strega insomma lo conosciamo bene o male tutti io naturalmente faccio il mio in bocca al lupo a questo libro a Elliot affinché insomma faccia il percorso più lungo poi che cosa è giusto che cosa è sbagliato non sono io a decidere tra l'altro neppure voto il premio strega non sono un amico della domenica per cui che ti devo dire io vorrei che fosse giudicato soprattutto per quello che è per quello che vale come libro come letteratura come testimonianza poi se vincerai i premi benvenga e allora grazie Andrea per essere stato qui ad almeno due pagine al giorno siamo in coda voglio ricordare ancora Andrea Pomella Andy Burgo con Irving Welch il sogno di un dio folle Giulio Perone editore che uscirà il 26 maggio però è già allo stand Giulio Perone per cui è possibile anche acquistarlo Andrea grazie davvero buon lavoro al Salone del Libro buon lavoro per tutto per la tua scuola e grazie per essere stato qui con noi noi siamo in coda alla prima parte di almeno due pagine al giorno spazio al GL di Popolare Network tra poco